Ciao Simone, come nasce la trattativa con la Reggina? Innanzitutto è partita dal fatto che cercavo un'altra destinazione, non perché non mi trovassi bene a Piacenza, però avevo voglia di provare una nuova realtà e quindi poi con il contatto tra il ministro e il direttore è nato tutto. La tua migliore stagione dal punto di vista realizzativo è coincisa con la promozione del Novara dalla C alla B. In panchina mister Toscano, dici di più sul mister e sul vostro rapporto? Sì, esatto, diciamo che quella lì è stata un'annata molto importante sia personale che collettiva, perché comunque sono arrivato in doppia cifra e siamo riusciti a vincere il campionato, quindi è stata un'annata decisamente positiva. Gli infortuni non ti hanno dato tregua e hanno limitato una carriera che probabilmente ti avrebbe visto protagonista in altre categorie. Come si esce fuori psicologicamente da una situazione del genere? Ma sinceramente non ho nessun rimpianto, nel senso che non do la colpa agli infortuni per magari un possibile o un futuro. E diciamo che sono stati comunque una bella ammazzata, specialmente dal punto di vista psicologico, perché venendo fuori dal primo in maniera positiva mi sono ritrovato nel pieno della forma a ricadere nell'altro ginocchio, quindi quello è stato molto duro a superarlo. Però sono rimasto sempre concentrato e sono andato avanti con un unico obiettivo, quello di rimettermi in piedi e adesso sono qui. Quale obiettivo ti poni per la nuova stagione? L'obiettivo diciamo che è sempre quello di migliorare, di migliorarsi e comunque di partire forte e di fare un grande campionato. Sei stato compagno di Bertoncini al Piacenza per un anno e mezzo, tre aggettivi per descriverlo? Ma è un ragazzo sicuramente a modo, un ragazzo disponibile e poi come difensore è tosto. Grazie a tutti.